E caccia in tutta la provincia i quattro banditi riusciti a sfuggire all'arresto tra sabato e domenica al termine di un folle inseguimento che ha visto protagonisti da Milo a Zafferana e Tenea i carabinieri delle stazioni di Sant'Alfio, Santa Venerina e Zafferana coadiuvati da un elicottero proveniente da Catania. Tutto ha preso il via da Fornazzo, frazione di Milo, quando nella serata di sabato una persona non del luogo è stata notata in atteggiamento sospetto da una pattuglia dei carabinieri di Sant'Alfio nelle immediate vicinanze di una villa abitata da un'anziana signora. L'uomo ha bussato alla porta per accertarsi probabilmente della presenza di qualcuno all'interno della casa ma alla vista dei militari è salito a bordo di una macchina di grossa cilindrata dove lo attendevano i complici fuggendo poi a tutta velocità. Nonostante l'alta dei carabinieri il commando ha proseguito la folle corsa a 200 km all'ora lungo la strada provinciale raggiungendo prima il centro di Milo e poi quello di Zafferana e Tenea inseguiti dalla pattuglia che, diramato l'allarme, è stata affiancata da altre gazzelle provenienti dalle vicine stazioni. Durante la fuga i cinque hanno più volte rischiato lungo il tragitto percorso di travolgere pedoni tamponando numerose auto e finendo poi contro un albero lungo la centralissima via Roma-Zafferana e Tenea. I malviventi scesi dall'auto hanno proseguito la fuga a piedi. Per ore le campagne tra Zafferana e Santa Venerina sono state setacciate. I militari sono riusciti a bloccare solo una donna, una giovane rumena priva di documenti d'identità che dopo essere stata condotta in caserma è stata rilasciata su disposizione del magistrato di turno. La giovane sarà denunciata per resistenza pubblico ufficiale ma probabilmente anche per tentato omicidio in concorso. Solo per fortuna la fuga a tutta velocità non si è trasformata in tragedia. Serrate le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Giarre per risalire all'identità degli altri quattro complici dagli accertamenti in corso sull'auto usata dal commando. Probabilmente provento di furto potrebbero emergere elementi utili per chiudere il cerchio attorno al commando.